Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui è Chamkay Parla e oggi vi porto un TCBM fatto con Tundurus Pokémaster Sì, aspettate un attimo Sì, ok Appunto, prima mi aveva mandato un FCBM, Tundurus Pokémaster e subito dopo mi è arrivato questo TCBM, abbiamo fatto un TCBM Allora, qui ci manda le carte da scambio in questa foderina e qui invece le extra, ma andiamo a leggere prima il fogliettino Read please Wordpad Andiamo a leggere Allora Ciao Charm, grazie per questo TCBM e per le carte che mi hai mandato Mi servivano proprio, soprattutto N, Dold XD A presto, Tundurus Pokémaster Scusate Ok Grazie anche a te Oddio, com'è che si dice questo coso? Ok, fatto Ovviamente andiamo prima a vedere le extra che ci hanno mandato in questa bustina di destini futuri Andiamo a vedere Andiamo a vedere le extra Andiamo a vedere le extra Ok, ci manda Chansey Poi Ladybug Pikachu, bellissimo questo, di Earthgold Solsilver Panthage Scraggy Hunter, bello questo E di Platino Arceus se non sbaglio Bronzor Anche questo forse Sì Vibrava Questo dovrebbe essere Ex Phantasmi di Olon Persian Raro, sì Dear God Solsilver Iglypuff Reverse Bellissimo G-Iglypuff E Wigglytuff Ovviamente Bellissimo Questo Iglypuff Reverse Grazie mille Mi ha fatto tutta la catena evolutiva Come sei gentile Comunque Wigglytuff Si merita un holo nei nuovi set Non è giusto Ok, le carte scambiate Sono due Ne avete già vista uno Ovviamente Eh Esci Vabbè, questa la tengo in foderina Ma anche no Ok, allora La prima è questo Alomomola Olo del MacDonald Perché a me Servono queste carte del MacDonald Che voglio finire il set Ma dopo che me l'ha mandata Mi sono accorto che l'avevo già Quindi ho fatto un epic fail Ma me la tengo lo stesso Perché l'ho promessa a Simo de Magician Magician Che Anche lui sta cercando di completare questo set L'altra carta Che è un po' rovinata Sinceramente Ma non me l'aveva detto Però non fa niente E Don Fan Prime Bellissimo Qui ha Dei solchi Diciamo Ma Non ci fa niente E' bella lo stesso Ti ringrazio Don Fan Prime Del set Earth Gold E' bella Ok ragazzi Io direi che va Tutto Queste sono le due carte scambiate Ringrazio Ci metto anche i gilbuff Dai Mi raccomando Pollice in su Iscrivetevi al suo canale Lo metto sotto in descrizione E alla prossima Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Grazie a tutti